Un facile accesso a contraccezione e aborto deve essere garantito a tutte le donne. A sostenerlo è il Parlamento Europeo che in seduta plenaria a Strasburgo ha approvato la relazione Tarabella sull'uguaglianza di genere tra uomo e donna. Il testo, passato con 441 voti favorevoli e 205 contrari, chiede agli stati membri di lavorare affinché questi diritti siano garantiti. Il socialista italo-belga Marc Tarabella è riuscito così dove aveva fallito la socialista portoghese Edith Estrella nel dicembre del 2013. Il suo testo ha messo d'accordo l'aula ma per farlo è stato necessario un grosso lavoro di mediazione. La relazione infatti insiste sul fatto che le donne debbano avere il controllo della loro salute e dei loro diritti sessuali e riproduttivi attraverso un accesso agevole alla contraccezione e all'aborto. Allo stesso tempo però, grazie ad un emendamento popolare anche questo approvato, ribadisce che le competenze in materia restano degli stati membri, ammorbidendo così la richiesta. Con questa importante mediazione per la quale ho lavorato insieme ad altri colleghi del PD ho votato a favore della risoluzione, ha spiegato la cattolica democratica Silvia Costa. Deluso invece Massimiliano Salini di NCD che nel commentare la spaccatura popolare sul testo ha affermato il PPE quando deve fare il salto culturale riconoscendo e difendendo le radici giudaico-cristiane del popolo europeo diventa timoroso sul piano valoriale e inefficace su quello politico.